SIGEP 2020 ci troviamo allo stand di Bovo Gelati, un'azienda trevigiana che ha oltre 70 anni e siamo in compagnia di Paolo Pillon, il CEO dell'azienda arrivata ormai alla seconda generazione. Paolo, benvenuto. Buongiorno, io sono Paolo Pillon, sono il titolare dell'azienda, l'azienda l'ho ricevuta, l'ho seguita, è stata data da mio padre che è stato uno dei pionieri della produzione di attrezzature. L'azienda è presente, come ha detto il signore, da oltre 70 anni. Mio padre è stato purtroppo un ex ferroviere che lavorando in ferrovia non poteva certo intestare l'azienda con il suo nome e quindi l'ha intestata alla mamma. Quindi l'azienda Bovo significa che è il nome di mia madre. Mio padre ha iniziato con piccole attrezzature, dalle piccole attrezzature siamo arrivati adesso che produciamo tutta la linea per la produzione del gelato, dai bollitori, pastorizzatori, tini di maturazione, macchine, attrezzature per gelateria e i mixer che sono un po' un cavallo da battaglia dell'azienda. Mi dimenticavo, facciamo anche macchine per grosse produzioni dai pastorizzatori ai pastocreme, macchine da 200 a 600 litri per l'industria e facciamo dei mixer importanti, mixer che si sollevano fino a 3 metri di altezza e possono operare su macchine, come dicevo prima, sui 600 litri. Papà non avrebbe forse mai detto 74 anni fa che l'azienda avrebbe avuto poi questo sviluppo e sarebbe cresciuta tanto da farla diventare poi con la nuova generazione una tra le leader nel settore nella realizzazione di pastorizzatori e attrezzature per la produzione del gelato. Quelle che abbiamo visto negli ultimi istanti sono solo alcune delle vostre realizzazioni, sono macchine assolutamente professionali rivolte anche e soprattutto all'industria. Voi siete qui al CIGEP 2020 per mostrare parte della vostra produzione ma soprattutto per proporre una grande novità. Qual è? La novità di quest'anno è un mixer innovativo, il mixer non è una novità assoluta, è quello che abbiamo fatto su questo mixer Il mixer che abbiamo fatto noi quest'anno, la presentazione è un mixer con la piastra induttiva con una bilancia e l'unione tra la piastra induttiva e la bilancia finisce tutto in un computer dove ho la lettura e la combinazione di tutte le ricette controllo alla fine della giornata del magazzino e posso trasferire attraverso la presa scarda sul computer e ho sotto mano tutta la giornata operativa che ho avuto. Per noi è una grossa novità e stiamo avendo anche dei buoni risultati Questo per noi, oltre il cavallo da battaglia, è anche una grossa soddisfazione di essere arrivati a questo Questa macchina, quella di cui abbiamo parlato negli ultimi istanti e che abbiamo potuto vedere nei suoi dettagli rappresenta un'attrezzatura 4.0 di fatto non solo per le industrie, per le grandi produzioni ma anche e soprattutto per quelle artigianali È una macchina innovativa perché mi permette il controllo del magazzino Il controllo del magazzino significa l'uscita delle materie prime ogni giorno dal latte, dal zucchero, dal cacao da tutto, in modo che a fine giornata possa avere un controllo per la fiscalità Oggi sei costretto di essere fiscale in tutti i modi e questo mi dà questa, ripeto, opportunità E quindi anche il ricambio e l'adeguamento del magazzino laddove le materie prime vengano consumate e vadano sotto scorta rispetto a quelle che sono le esigenze di produzione del periodo Esatto, lei mi ha proprio letto nel pensiero quello che volevo dire io E allora Paolo, per chiunque si trovi dall'altra parte ed è rimasto affascinato dalle attrezzature e nello specifico proprio il mixer che abbiamo presentato qui a SIGEP 2020 come novità C'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per richiedere maggiori informazioni e chissà, magari diventare vostro cliente? Allora semplice, dovete scrivere a commercialechiocciolabovogelati.com e sarete soddisfatti immediatamente Grazie per il contributo Paolo, ci vediamo prossimamente Grazie, molto gentili, grazie e saluto tutti